Salve a tutti, siete su Radio DJ, state ascoltando Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi insieme a Fabio B. una delle storie più strane che mai abbiano incrociato il mondo della musica e dello spettacolo. Perché la metà oscura di quel mondo, la faccia nascosta della luna e anche quella delle stelle, di strane storie ne conta parecchie, storie drammatiche, storie misteriose, storie fantastiche, che a volte finiscono bene ma ancora più spesso finiscono male o malissimo. Ma nessuna storia è una storia come questa. Nessuna è più incredibile, folle e bellissima come la storia di quella volta che Elvis Priestley uccise il presidente John Fitzgerald Kennedy. Di storie strane in giro ce ne sono parecchie, soprattutto quando si parla di personaggi famosi e di morti misteriose. Si chiama dietrologia o teoria del complotto. Qualche volta ci prende, il più delle volte no e comunque stupisce sempre. Bene, tra tutti gli argomenti che hanno sviluppato le teorie del complotto, il più fecondo è stato sicuramente quello dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Non ci crede praticamente nessuno che a sparare il presidente degli Stati Uniti sia stato Lee Harvey Oswald, da solo e senza aiuto. Come ha stabilito la commissione Warren, la commissione d'inchiesta del Senato che indaga sulla morte del presidente e che stabilisce la verità giudiziaria sull'accaduto. Lee Harvey Oswald, ex marine, ex attivista comunista, simpatizzante cubano, ma soprattutto pazzo, sale all'ultimo piano di un deposito di libri a Dallas, prende il suo Mannlicher Carcano, un vecchio fucile di precisione, punta la testa del presidente Kennedy che sta passando in parata sulla sua auto decapotabile per le strade di Dallas e gli spara, uccidendolo. Le varie teorie hanno chiamato in causa altri protagonisti, i fuoriusciti cubani, la mafia, la CIA, i Ku Klux Klan, tanti centri di potere e poteri forti che ce l'avevano con Kennedy per motivi politici ed economici o perché pensavano di essere stati traditi e l'hanno ucciso. Ci sono libri, saggi o romanzi come American Tabloid di James and Roy oppure Libra di John De Lillo e ci sono film come JFK di Oliver Stone. Insomma, sono tante le teorie del complotto e molte sono più credibili di quelle ufficiale della commissione Warren. Però in pochi, pochissimi, saranno disposti a credere alla più pazzesca teoria del complotto che riguarda l'omicidio del presidente, la più incredibile e la più sconvolgente. Quella per cui ad uccidere Kennedy sarebbe stato niente di meno che Elvis Presley in persona. Tutto comincia nel settembre del 1958, quando Elvis sta facendo il servizio di leva nell'esercito e viene trasferito dal campo d'addestramento di Fort Hood alla ventiquattresima divisione di fanteria di base in Germania. Elvis è già Elvis, è famoso, ne è passato di tempo da Zezo, Rai, Mahama o Blue Moon o Kentucky. Ha già venduto milioni di dischi e ha già fatto tre film. È sicuramente il soldato degli Stati Uniti più famoso di tutti i tempi, ma per il comandante della base, il generale Edwin Anderson Walker, è soltanto Z-Heap Swinging a un Dogface Soldier, quel soldato sculettante dalla faccia da cane da caccia. Il generale Warren umilia Elvis, trattandolo come l'ultima recluta, ed Elvis comincia a odiare il generale, ad odiarlo ferocemente. Per Elvis, quel maledetto generale Warren diventa un'ossessione, se lo sogna la notte ed è sempre un incubo. Warren, maledetto Warren. Almeno così dice la teoria del complotto. Fermiamoci qui. Lasciamo per un momento Elvis al suo servizio militare in Germania, a stringere i denti odiando il generale Warren, e torniamo indietro, per incontrare l'altro protagonista fondamentale di queste ipotesi. È una donna. E anche lei è una cantante un'attrice. È famosa e si chiama Anne Margaret. Anne Margaret canta, incide dischi e recita in molti film, alcuni dei quali si legano strettamente al mondo della musica pop e rock di quegli anni. Anne Margaret è la protagonista di un film da teenager, come la ragazza Yee Yee, ma soprattutto, ed è questo che la consacra nell'immaginario di intere generazioni interessate al rock, è uno dei protagonisti femminili di Tommy, l'opera rock degli Hu. Tommy, il ragazzo autistico che scopre il mondo e le sue contraddizioni attraverso la musica, due genitori. Uno, il padre, è Christopher Reeve. L'altro, la madre, è Anne Margaret. E a lei che Tommy canta uno dei brani più belli del film. Ecco, nel 1946, molto prima di diventare l'icona pop più rappresentativa degli anni 60 e 70, Anne Margaret Olson aveva 5 anni e ballava come una piccola star a Radio City Musical di New York, ma era già stata notata da un affabile e cordiale amico di famiglia. Lo zio amico di famiglia si chiama Alexander Seimonovic Feliksov. Vive negli Stati Uniti svolgendo un anonimo mestiere qualunque, ma in realtà è un alto ufficiale del KGB, il servizio segreto sovietico di quegli anni. Chi ha attenzione? Sono proprio gli anni della guerra fredda, del confronto silenzioso tra blocco americano e blocco sovietico. Anne Margaret è figlia di immigrati svedesi antinazisti che sono scappati in America dall'Europa occupata da Hitler. La piccola Anne cresce negli Stati Uniti, ma ha simpatie comuniste, è bella, anticonformista, è ribelle e per Feliksov sarebbe una spia perfetta. E infatti lo diventa. Feliksov la ruola nel KGB con l'incarico di svolgere la sua attività di spia nel campo della musica e dello spettacolo. La ragazza si dà da fare, infiltra di idee comuniste l'ambiente di Hollywood e a mano a mano che diventa una star, recluta attori intellettuali nei servizi segreti sovietici. Questo naturalmente sempre secondo la teoria del complotto. Secondo questa teoria ne ruola tanti di attori, cantanti e sceneggiatori, ma ce ne sono due particolarmente importanti. Uno è un comediografo, dalle cui opere Hollywood ha tratto parecchie sceneggiature per i suoi film, e si chiama Arthur Miller. L'altra è la sua bellissima moglie, un'attrice molto famosa e molto amata, che si chiama Marilyn Monroe. Almeno, così dice la teoria del complotto. Bene, lasciamo per un momento Anne Margaret a fare la spia per i russi ad Hollywood assieme a Marilyn Monroe e torniamo ad Elvis Presley, che sta facendo il servizio di leva nella base di Fort Hood in Germania. Finito il servizio di leva, Elvis torna in America ai suoi successi discografici, ai suoi film, ai suoi fan. Diventa definitivamente The King, il re. Dimentica tante cose di quell'assurda parentesi della vita militare, ma di una cosa non si dimentica. Non si dimentica del generale Walker. Continua ad odiarlo con tutte le sue forze, anzi, vorrebbe vederlo morire e lo racconta a tutti. Vuole che il generale muoia. E allora perché aspettare? Perché non anticipare i tempi e assoldare qualcuno che lo uccida? A suggerire questa idea a Elvis è una sua amica, che sta registrando un disco a Memphis per la sua stessa casa discografica. Un'attrice molto bella e molto famosa, l'icona pop di quegli anni, la nostra Anne Margaret. Lei saprebbe chi consigliargli, gli dice. Gli dice che ha molti amici nella malavita organizzata, giocatori d'azzardo, gangster, anche un boss del calibro di Carlos Marcello, il capo della mafia di New Orleans. Anne Margaret ha sotto mano l'uomo giusto, un balloso spiantato e un popazzo che ha reclutato lei stessa per il KGB una volta, un ex marine che si chiama Lee Harvey Oswald. Elvis Presley e Lee Harvey Oswald si incontrano all'aeroporto di Dallas e Oswald accetta l'incarico di ammazzare il generale Walker, ma il suo piano è così male organizzato che fallisce. Oswald fa un casino, il generale non si accorge neppure di essere stato in pericolo e la cosa finisce lì. Elvis si arrabbia ma non c'è niente da fare, storia chiusa. Però intanto è successa un'altra cosa. Anne Margaret ha perso uno dei suoi agenti più preziosi, la spia del KGB numero uno ad Hollywood. Il 5 maggio del 1962 Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua villa di Brentwood. Sembra un suicidio ma non è vero, o almeno così dice la teoria del complotto. Secondo la teoria che stiamo seguendo, ad uccidere Marilyn sarebbero stati Robert Kennedy, il fratello del presidente, in quel momento ministro della giustizia degli Stati Uniti, e l'attore Peter Lofford, suo cognato. Hanno soffocato Marilyn con un cuscino e poi hanno simulato un overdose di barbiturici. Lo hanno fatto per difendere JFK dalle voci imbarazzanti di una sua relazione con l'attrice, che avrebbero provocato uno scandalo dal momento che il presidente, per quanto incontenibile donnaiolo, è sposato con una first lady amatissima dagli americani, come Jacqueline Kennedy. Allora, i Kennedy hanno fatto ammazzare Marilyn Monroe. Anne Margaret lo ha saputo da un suo filtrato dell'FBI ed è arrabbiatissima perché ha perso uno dei suoi agenti migliori. E' da quel momento, così dice la teoria, che comincia ad odiare John Fitzgerald Kennedy, di quello stesso odio feroce e implacabile con cui Elvis odiava il generale Walker. Che succede a questo punto? Anne Margaret, lo abbiamo visto, è una mente diabolica e perversa, sempre secondo la teoria del complotto naturalmente. Dietro quell'immagine affascinante e dolcemente ironica c'è l'anima di una spia. Una parte che è già fatto in altri film, come Mattelm Il silenziatore, una serie incentrata su una spia della CIA. Anne Margaret vuole vendicarsi e trova l'occasione giusta. Sta recitando in un film che si chiama Viva Las Vegas, un film musicale che ha come protagonista la rock star del momento, Elvis Presley. Bene, Anne Margaret seduce Elvis, se lo porta a letto, al Sands Hotel, e dopo una notte d'amore scatenato, quando senti di averlo in pugno, lo ricatta. O lui l'aiuta ad uccidere il Presidente Kennedy, o lei denuncia il suo tentativo di far uccidere il generale Walker da Lee Harvey Oswald. Elvis arrestato per tentato omicidio. Non è possibile. Così Elvis, già corto perso di Anne Margaret, cede e accetta di aiutarla. Dallas, 22 novembre 1963. Elvis è appostato alla finestra del sesto piano di un deposito di libri e imbraccia un fucile, un malliker carcano procuratogli da Lee Harvey Oswald. Oswald vorrebbe essere lui a sparare, ma visto il fallimento col generale Walker, di lui non si fida più nessuno, ed è meglio che sia Elvis a prendere la mira. E infatti ecco che arriva l'auto del Presidente, preceduta dal segnale voluto da Elvis. Sulla strada c'è il capo delle sue guardie del corpo, Bobby Jean West, detto The Dragon, il dragone, che accende un registratore portatile facendo suonare nell'aria le note di It's Now or Never, uno dei suoi successi. It's Now or Never, che suona più o meno come Ora o Mai Più. Elvis spara e uccide Kennedy, poi scappa. Al suo posto, Anne Margaret, diabolica come sempre, fa arrestare Lee Harvey Oswald, che poi verrà ucciso in carcere da Jack Ruby, un proprietario di Night Club legato alla mafia. Il resto è storia, dalla commissione investigativa del senatore Earl Warren, al film JFK di Oliver Stone. Storia vera, non teoria del complotto. Torna tutto in questa teoria. Incontri, conoscenze, date, coincidenze. E così Elvis Presley diventa veramente l'assassinone Presidente Kennedy per soddisfare la sete di vendetta di Anne Margaret, che vuole vendicare la morte di Marilyn Monroe spia del KGB. Più bello di così, come si fa, non crederci. Poi però arriva il buonsenso e ci dice che in effetti incontri, nomi, conoscenze, date, coincidenze, non bastano. Neanche nel mondo della musica, neanche in quello dello spettacolo. Neppure nella metà oscura della politica, che è ancora più incredibile. Ci vogliono anche moventi credibili, prove certe, testimonianze attendibili, precedenti accertati, documenti, per poter credere a qualcosa. In questo caso, come in tutti quelli su cui si sono sempre esercitate dietrologie e teorie del complotto. Di certo, in tutta questa storia c'è solo che John Fitzgerald Kennedy è stato Presidente degli Stati Uniti ed è stato ucciso a Dallas nel 1963. E che Anne Margaret ha fatto e continua a fare film e dischi, anche adesso, che ha 68 anni. L'ultima cosa che ha fatto al cinema è una commedia romantica che si chiama Ti odio, ti lascio, ti ed è uscita nel 2006. Ed Elvis? Beh, Elvis ha continuato anche lui a fare film e dischi. Finché non ha deciso di simulare la sua morte, si è ritirato su un'isola del Pacifico dove si trova attualmente assieme a John Lennon, Jim Morrison e Marilyn Monroe. Lo sanno tutti. E se anche non è vero, non importa. Di certo, è più bello così.